buonasera riesco a trovare tempo sulla mezzanotte perché diciamo che la giornata al senato è complicata è più complicata rispetto alla camera si è più complicata rispetto alla camera diciamo che la cosa che mi può venire in mente è un po la differenza fra giocare il calcio 11 e giocarlo sullo stesso campo a 4 da una parte uno può essere forse più soddisfatto perché magari fa tanti gol no magari nel calcio 11 segnarvi una volta su cinque partite viceversa se sullo stesso campo giochi a 4 magari fai tre gol in una partita però se devo dire che si lavora bene no quindi c'è un misto fra la soddisfazione di avere chiaramente più incisività più bo chiamiamolo potere per quel poco potere che uno può può considerare quello di un parlamentare che ovviamente deve essere e per fare le cose deve essere in maggioranza boh non so va bene chiamiamolo potere e quindi certo c'è c'è soddisfazione perché vedi che incidi di più dall'altra parte non lavori bene non lavori bene perché fai tantissime cose contemporaneamente io ho cominciato stamattina alle 8 e 45 in commissione affari dell'unione europea e ho finito poco fa nel di mentre sono saltato dentro e fuori dall'aula dove sono riuscito a rispondere al presidente meloni per in vista del consiglio europeo del 15 del 16 qualcuno forse ha visto il video in diretta dopodiché non so neanche quante volte in commissione bilancio ad aspettare che arrivassero le riformulazioni per il decreto aiuti aiuti quater e una serie non ho neanche più contate di riunioni invece all'interno appunto della maggioranza per del presidente della commissione bilancio attuale e così via per cercare di trovare le soluzioni migliori per per questo per questo provvedimento penso che sia meglio o penso che era meglio quando c'erano un po' più di parlamentari tenete presente che oltretutto qui già sono la metà rispetto alla camera in più sono ancora ridotti c'era più tempo per poter visionare un singolo provvedimento e quindi e quindi poi aggiungiamo il fatto che come vi ho detto non c'è personale perché appunto non quando ero presidente di di commissione avevo uno staff adesso no per cui va bene si gioca col cuore ecco mettiamola così per cui per cui va bene il mess vedo il mess e si messo spiegato in aula al punto di vista al presidente meloni ma tanto lei lo sa perfettamente e anche vorrei dire oggi se non erro nel question time giorgetti mi pare che abbia risposto a marattina che ha chiesto appositamente sulla questione del mess e direi correttamente gli ha detto che non si non si approva al momento perché non serve per cui in apparenza tutto bene ecco dall'altra parte invece mi varebbe a dire appunto che non ci fosse stato il taglio dei parlamentari sarebbe stato meglio non ci fosse stato il l'azzeramento del finanziamento pubblico dei partiti in modo tale per il partito avere un minimo di staff sarebbe stato meglio ancora cosa devo dire va bene così d'altra parte tanto sapete benissimo no vedete cosa succede no che tu sei qui ovviamente a rigare drittissimo e a fare le cose con tutta la passione che puoi poi invece ci sono altri che invece vivacchiano molto tranquillamente al parlamento europeo con tonnellate di staff non tonnellate di soldi e anche magari con qualche sacco di banconote specialmente se sei della sinistra va bene così va bene così io sono abituato a fare quello per cui sono messo a fare in qualsiasi condizione volete che ne so fare che faccio tutto mentre faccio girare le clavette o le palline o suono le trombette tipo la foca lo faccio figurati figurati se mi ha mai spaventato il lavoro non è il lavoro certo che mi spaventa è la qualità del lavoro ma provo per quanto possibile a tenere il meglio però al di là di questo vorrei dire che qualcosa sta succedendo e infatti volevo essere con voi perché non ho neanche il tempo quindi di fare un po' di video in diretta quando succedono cose cose importanti perché perché alla fine ieri è successa una cosa importante ieri abbiamo girato definitivamente pagina su quel periodo osceno che è stato il green pass e gli obblighi vaccinali il primo decreto che è entrato in trattazione al parlamento era il decreto 31 ottobre cosiddetto decreto decreto rev il decreto rev il decreto rev conteneva dentro anche una norma sul covid la norma sul covid era quella per consentire il ritorno in servizio anticipato e anche quello era un bel segnale dei medici e dei sanitari sospesi questa cosa ha consentito perché voi ricordate che nei decreti è possibile emendare o aggiungere voci emendamenti articoli se attinenti all'oggetto del decreto quindi se il decreto parla di agricoltura io non posso metterci un emendamento che parla di sport quindi il fatto che all'interno di quel decreto ci fosse la norma che riammetteva i medici consentiva per estensione di poter aggiungere il degli emendamenti sul covid e qui serve anche capire cosa serve poi avere i presidenti di commissione questo decreto veniva trattato in commissione giustizia in commissione giustizia il presidente è giulia buongiorno per cui un presidente che non avesse voluto trovare la rogna del degli emendamenti sul green pass sugli obblighi vaccinali semplicemente avrebbe reso questi emendamenti improponibili e oltretutto scopro perché sto imparando anch'io scopro che al senato il presidente di commissione ha più potere perché l'emendamento improponibile così considerato non c'è l'appello mentre alla camera quando io dichiaravo inammissibili degli emendamenti allora uno poteva scrivere al presidente della camera no in modo tale da protestare con quello che avevo fatto io eventualmente farlo riammettere cosa che fico ovviamente giusto per il gusto di rompermi le palle faceva costantemente ecco che invece qui al senato non si può per cui c'è il presidente della giustizia volendo se non fosse stato della lega magari avrebbe potuto opporsi viceversa l'emendamento diciamo così no parte rivoluzionario abbiamo avuto il coraggio di farlo noi l'ha firmato il capogruppo romeo e era l'emendamento per sospendere le multe per l'obbligo vaccinale ho spiegato tante volte perché sospendere non cancellare perché ormai abbiamo imparato a fare le cose benino se avessimo messo in un decreto che non aveva capacità di spesa una norma che potenzialmente uno qualsiasi un burocrate sparso qualcuno la lobby piddina mettete come volete avesse piantato dei chiodi dicendo ma in realtà questo emendamento non va bene perché è oneroso perché incide su un mancato incasso da parte del dello stato e magari magari per un qualsiasi motivo magari anche con la complicità del capo dello stato avrebbe potuto essere stracciata la norma avrebbe potuto capitare e allora invece abbiamo cercato di essere precisi allora dato che questo era il primo provvedimento e non aveva una capacità di spesa inclusa abbiamo fatto prima la sospensione e rispondo alla domanda di tutti quelli che dicono eh ma quelle che sono già arrivate si possono devono essere pagate o seminare allora l'emendamento dice che è sospesa l'attività e l'irrogazione delle sanzioni relative ad obbligo vaccinale quindi è sospesa l'irrogazione nel senso che non devono più partire da quando poi sarà in gazzetta ufficiale gli avvisi di multa ma l'attività quindi tutta l'attività di incasso eh e di eh riscossione eh viene sospesa ehm per cui uno non deve fare ricorso non deve fare niente perché quelle quelle multe non verranno richieste e appena possibile con un provvedimento invece eh con capacità di spesa ehm potranno essere potranno essere cancellate definitivamente eh il questo già era rivoluzionario eh arrivati in aula e devo dire scusate eh ho un po' qui eh mi è rimasto un po' in gola perché questa cosa ovviamente voi sapete quanto lunga sia stata la mia battaglia in certi casi molto solitaria eh perché chi mi ha seguito l'ha visto insomma è stata una lunga battaglia solitaria contro gli obblighi vaccinali contro il green pass e così via perché sì è vero che magari ero uno dei 33 che votava contro ma dei 33 32 erano dell'opposizione della piccola opposizione no che al governo di unità nazionale chi all'opposizione vota sempre no magari fra quei 33 c'era della gente che era straconvinta che l'obbligo vaccinale fosse una figata che era straconvinta che il green pass ci volesse con otto mascherine ehm poi si prendono il merito per essere degli eroi no ma erano all'opposizione votavano contro avrebbero votato contro con l'opposizione anche un anche cose dove si regalano i soldi l'opposizione se c'è un provvedimento dove si regalano dei soldi eh vota contro perché dice che sono contrari perché bisogna regalarne di più quindi non è che era particolarmente così bisogna vedere quanti erano quelli della maggioranza molto ampia quindi del governo di unità nazionale che avevano il coraggio di votare contro e troverete che di solito eravamo uno o due di solito ogni tanto si aggiungeva qualche qualche altro eroe del mio partito magari guido de martini eh magari la la loss no così questo tipo bene e quindi è stata veramente una battaglia in certi casi molto molto solitaria ehm e quindi mi è dispiaciuto perché se uno guarda io non ero in aula eh ieri quando eh si eh si si chiudeva eh questa 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 operazione perché ero in riunione permanente con eh governo e capigruppo di maggioranza per la UT Quater quindi se voi vedete non ci sono io non c'è il il presidente della commissione a bilancio non ci sarà non c'è il capogruppo di fratelli d'italia in commissione a bilancio che si chiama l'iris no e così via e noi eravamo lì a spuntare emendamenti va bene quindi confesso di non non aver potuto godermi eh in diretta il momento della fine infatti se vedete oltretutto il mio tweet che annuncia la fine del del della della dittatura sanitaria con con il voto di tutti gli emendamenti arriva molto tardi il giorno dopo invece quando c'è stata la votazione finale la soddisfazione me la son tolta quel 92 a 75 ero in aula e quello vi posso assicurare quel voto finale non l'avrei perso per niente al mondo no? Comunque nella giornata in cui non ero in aula quindi quando si votavano anche i residui emendamenti eh il collega di di fratelli d'italia ha voluto aggiungere una cosa che è una piccola cosa ma secondo me mi sembra molto molto opportuna vale a dire eh la fine eh anticipata quindi dalla data di entrata in vigore del del decreto del green pass eh anche per gli usi residui quindi eh gli ospedali le astanterie degli ospedali l'RSA no? E così questo tipo eh è poca cosa sì è poca cosa perché sarebbe scaduto il 31 dicembre ma secondo me è molto molto è stato un gesto molto importante quello di presentare questi emendamenti e farli votare perché se voi ricordate quando al governo c'era quel mettete voi l'aggettivo di speranza mi dispiace distruggervi eh lo stomaco a quest'ora di notte tra parentesi siete tanti eh eh quando 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 c'era quel simpatico soggetto di speranza vi ricordate quando scadevano eh i provvedimenti e quando era evidente che erano obsoleti e quando ormai c'era troppa pressione anche grazie insomma un minimo di impegno per spiegare le cose cosa faceva? Diceva si scade ma lasciava un qualcosina la mascherina si va tolta ma sui treni la teniamo ancora per un mese no? E così via quindi le cose scadevano venivano tolte ma per far vedere no? Quanto era cattivo uso questo uso questo aggettivo no? Per far vedere quanto era cattivo lasciava qualcosina il piedino dentro nella porticina per ancora qualche giorno perché voleva far capire com'era l'andazzo ecco in questo caso saranno pochi giorni ma secondo me molto bene ha fatto il collega Zaffini per far vedere che l'andazzo è cambiato che si è girata pagina e questo deve far capire a tutti come funziona una democrazia al momento può capitare che ci sia la maggioranza che la pensa diversa da noi e non possiamo neanche dire che fanno le cose incostituzionali come io sono convinto che fossero perché purtroppo nel nostro ordinamento cos'è costituzionale o cos'è non costituzionale lo decide la corte costituzionale non lo decide la nostra sensazione lo decide la corte costituzionale che è un organismo politico e che avete visto ha detto che era tutto regolare per cui noi avevamo nella formale regolarità una maggioranza evidentemente nel paese riflettuta quindi nella maggioranza dei parlamentari che era convinto che fosse giustissimo limitare le libertà fondamentali per mezzo del green pass che fosse giustissimo applicare degli obblighi vaccinali no alla gente e questa maggioranza nel rispetto dal mio punto di vista assurdo perché col cavolo che si rispetta la costituzione non la si rispetta dal primo articolo del diritto al lavoro ma per la nostra corte costituzionale invece a differenza del mondo invece andava e va e va tutto bene ma questa maggioranza come si scardina non con la magia si scardina lavorando facendo informazione spiegando portando dati mettendo dati sotto il naso poi per carità ci sono alcune cose che fanno svegliare le persone più di tutti cioè dopo quando è arrivata l'omicron è più o meno il covid l'hanno preso tutti e hanno visto che non era esattamente questo questo morbo dell'estinzione no che tutti pensavano quello è stato il momento che sicuramente ha fatto cambiare idea a molti più dei miei dati sul lockdown sulla mortalità sull'efficacia dei vaccini sul perché i giovani non dovrebbero e così via va bene però diciamo che si concorreva da una parte mettevi dati e poi forse la gente una volta toccato al mano e anche ricordandosi un pochettino di questi dati si svegliava e alla fine di tutto questa consapevolezza porta a un programma questo programma viene votato e alla fine i partiti che erano vincolati a un programma dove diceva basta restrizioni quindi inclusa forza italia che pure era in primissima fila per sostenere gli obblighi vaccinali green pass e tutte quelle cose alla fine si mantengono vedete l'importanza del voto specialmente quando c'è della gente motivata a mantenere le promesse elettorali voi avete votato dando la maggioranza centrodestra quindi non dando la maggioranza a speranza uno dei punti del programma di centrodestra e qui mi permetto di ringraziare una persona che non è stata votata a sufficienza mi verrebbe da dire vale a dire armando siri e secondo me quello è stato un grave errore da parte degli elettori ma armando siri che era una persona che era in incaricato per la lega di stilare il programma di partecipare alla stesura del programma aveva tenuto il punto e aveva messo ben chiaro che non avrebbero dovuto esserci state più restrizioni per delle libertà personali per nessun motivo bene alla fine di tutto questo il risultato è che battaglia politica battaglia informativa strategia nel formare i programmi voto vostro che è la parte sacrale no la parte dove voi date mandato alle altre persone per fare quello che voi pensate che sia giusto alla fine porta il risultato e permettetemi di dirlo scusate lo so che magari faccio arrabbiare un qualcuno porta il risultato nonostante i partitini novax e così questo tipo questi partitini io non lo so se c'era dentro qualcuno in buona fede ma per la maggior parte dei casi erano contro il nostro progetto è gente che pensava nella stragrande maggioranza di casi di lucrare un posto sapendo bene sapendo bene che non avevano nessuna possibilità e quindi consci perfettamente che la loro presenza avrebbe semplicemente favorito le forze che invece puntavano a fare esattamente il contrario per fare quello che è necessario fare bisogna dar fiducia alle persone capire come stanno lavorando e metterli in condizione di fare qualcosa poi perché si fa qualcosa ci vuole tempo non c'è la bacchetta magica ci vuole tempo e ci vuole capacità perché anche l'imparare come si fanno le cose e riuscire in questo modo a non essere fermato dalla contraerea del palazzo quindi fare la sospensione invece del invece della del tentativo di cancellazione e infilare dentro per l'aula gli emendamenti sul green pass e così questo tipo e questo deriva dall'esperienza che purtroppo non chi è appena arrivato non è però alla fine è andata io sono convinto che quello che è successo sia stato orribile sono convinto che questi due anni abbiano portato fuori il peggio dalle persone sono convinto che lock down abbiano fatto dei danni forse irreversibili ai nostri ragazzi i dati su oltretutto le vaccinazioni sui giovani e sulle miocardite e così via al momento appaiono inquietanti io sto ancora cercando di raccoglierli ma finché non ho i dati dell'istat non posso venirne a una mettiamola così quindi si è rotto secondo me il tessuto sociale l'odio è veramente scorso a fiumi non si dimentica no non si dimentica ci sarà una commissione d'inchiesta ci sarà una commissione inchiesta per vedere se qualcuno ha occultato dei dati se qualcuno ha guadagnato sopra perché ricordate che se i sacchi di soldi giravano per il mondiale in catara ma secondo voi per le forniture dei vaccini eh io vorrei che forse qualcuno si ricordasse in italia che c'era già stato è lo scandalo dove il ministro e quelli della sanità erano stati trovati con i lingotti dentro il puff e guarda caso proprio per una questione di vaccini quindi non è che sono cose che non sono mai successe quindi io sono abbastanza convinto che la storia di questo periodo ci riserverà delle amare sorprese no io spero che chiunque abbia veramente ceduto sia sia punito come deve separando la parte democratica perché purtroppo la parte democratica non è punibile cioè non è che si può dire che quelli che hanno votato a favore o così questo tipo no non credo che hanno votato a favore semplicemente riflettevano quello che la popolazione pensava ma se il desiderio della posse se la volontà della popolazione era stata ingannata da dati falsi o da informazioni false e allora a quel punto chi ha propugnato queste informazioni false questi dati falsi che hanno spinto la popolazione a credere a volere qualcosa che non c'era beh beh allora cambia il discorso e si rientra nel penale serio quindi ci sarà la commissione d'inchiesta andremo con tranquillità a vedere chi e che cosa ma nel frattempo godiamoci questo momento godiamoci questo momento di libertà e voi e io come cittadino viviamo più tranquilli sapendo che non c'è più un governo che attenta la nostra libertà personale abbiamo un governo in questo momento che rispetta la libertà abbiamo un parlamento dove io mi onoro di sedere dove la maggioranza è ormai convinta che queste cose vanno lasciate in soffitta e basta per cui è stato un momento importante è stato un momento di chiusura magari qualcuno che preferiva obblighi di 100 dosi adesso sarà arrabbiato come potevamo essere arrabbiati noi che gli obblighi non le volevamo all'inizio e pazienza cambia l'aria cambia ce ne faremo una ragione chi non è contento per come stanno andando adesso le cose protesterà come giusto che sia ma è cambiata l'aria ed è cambiata su tante cose oggi avete visto che tipo di intervento fatto io in senato in merito all'euro summit avete sentito la replica del presidente meloni che mi ha lasciato totalmente soddisfatto direi che secondo me succedono cose positive le cose da molte altre parti devono essere oliate è attenzione perché per esempio non sta andando tutto liscio sia nella legge di bilancio che nella iutiquate chi si aspetta per esempio che le questioni relative al superbonus così via trovino soluzione con la bacchetta magica no non si trovano si cercherà di migliorare un po la situazione ma la bacchetta magica no perché si è deciso per evitare di dire facciamo subito la guerra al mondo che oltretutto manco servirebbe perché perché in questo momento abbiamo una situazione lievemente differente rispetto a quando eravamo inflazione zero e surplus commerciale c'è questo momento siamo in deficit commerciale e alta inflazione quindi diciamo che le possibilità di manovra dal lato del deficit si riducono in modo in modo forte come io spero spiegato in in tanti anni quindi non non si può fare tutto sicuramente chi si immaginava ogni tanto arriva fa ma come arrivano delle mail adesso arriva il mail bombing per questa tal graduatoria degli insegnanti e così questo tipo approfitto anche qui per dirlo non fatemi mail bombing mi viene voglia di fare il contrario rispetto a quello che mi chiedete perché se io mi ritrovo intasata la mail di persone che fanno copia e incolla di una roba mi girano le palle non non è così che si fa perché io ho la porta aperta basta venire basta farmi un tweet per spiegare una questione e similare oppure basta mandarmi una mail scritta in modo in modo personale che io riesco a capire meglio cos'è la problematica posto che sia una cosa di mia competenza e gli insegnanti non lo sono ma lo stesso messaggio ripetuto per 300 persone ma cosa credete che che serve a qualcosa no quindi sicuramente ci saranno degli scontenti ma è normale perché è un è un governo una maggioranza che sta dando un'impostazione politica e quindi essendo che sta dando un'impostazione politica rispetto a tanti anni dove non si capiva bene chi decidesse dove si andasse sempre l'unione europea come tutte le decisioni politiche avrai una parte che scontenta però viva dio almeno una volta che sono scontenti loro perché altrimenti la decisione politica era sempre ed esclusivamente mazzolare l'elettorato l'elettorato di centrodestra e certe categorie diciamo così del che 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 erano ritenute troppo indipendenti o troppo libere o inutili per la loro cricca di amici no oppure quando andava bene ecco diciamo così scontentavano tutti perché tanto glielo chiedeva l'europa ecco basta basta per cui niente in questo momento siamo ancora nella fase giusto per aggiornarvi velocemente su come sono su come sono i lavori questo è il mitico fascicolo degli emendamenti segnalati per il decreto aiuti quarter dove ognuno cerca di aggiungere cose per intendersi io dentro degli emendamenti che sto portando avanti in aiuto all'industria delle delle fonderie o dentro delle questioni relative al trasporto pubblico locale insomma tutte cose che secondo noi possono essere dei miglioramenti niente di sostanziale non non vi cambierà la vita per questi singoli emendamenti ma qualcuno magari sì no e quindi sono dei piccoli interventi che si cercano di portare avanti per migliorare o la competitività di qualche nostro settore o similari sto cercando di fare inserire un emendamento a favore per esempio del dei concessionari d'auto in Italia che sono svantaggiati rispetto sono diciamo parte contro parte debole rispetto ai produttori è ovvio i produttori d'auto non saranno contenti se si riesce a far passare questo emendamento ma è sempre lì qualcuno si scontenta e qualcun altro invece diventa un pochettino più soddisfatto i concessionari d'auto secondo me è più giusto aiutarli perché hanno avuto un periodo del cavolo e sono tutti italiani e sono tutti qua in Italia i produttori d'auto sono tutti all'estero quindi se io devo scegliere chi aiutare fra queste due categorie scelgo i concessionari d'auto quindi cerco se possibile di portare avanti gli emendamenti che gli aiutano non sarà semplice ma va bene proviamoci e quindi questo è quello che cerchiamo di fare insomma no cioè cercare di dare pian piano un'altra direzione cercare di far capire la gente che non è più minacciata da dappazzoidi tipo tipo speranza che che o conte che si mettono a fare delle cose strane non avere più premier tipo tipo conte che va in ginocchio in Europa della Merkel no e avere magari una Giorgia Meloni che si presenta con una maniera un po' più assertiva ecco diciamo così in certi in certi consessi non avere più premier tipo Draghi che invece non ascolta nessuno e si fa i cavoli propri basta basta una maggioranza che avete votato voi con un programma che avete votato voi che cerca di fare questo programma che noi abbiamo detto con una predominanza certo di un partito ma in cui gli altri partiti vedi caso ucraina no di questo tipo la politica estera è dettata da Fratelli d'Italia che su questa situazione ha avuto una posizione chiara ha preso più voti noi possiamo cercare ovviamente di ammorbidire la posizione quello che proviamo a fare ma è giusto che alla fine insomma nelle posizioni chi ha presentato determinate bandiere insomma le porti avanti in ogni caso il punto è che la maggioranza sui macro temi va d'accordo sui singoli provvedimenti è ovvio che le discussioni in certi casi sono accese perché tutti hanno interesse a portare avanti la propria istanza in tutte le sedi ma spero che si percepisca che le cose vanno meglio spero che si percepisca che quella minaccia costante continua del prossimo decreto legge del che cosa succederà del cosa mi imporranno no è così questo tipo sia un brutto ricordo del del passato non si è vissuto bene però vi lascio con un messaggio di speranza secondo me questi due anni di pandemia inizialmente e di lockdown inizialmente pensati sono quasi sicuro dalla Cina che voleva sperimentare agli estremi livelli controllo personale che già iniziava col suo sistema del social credit e stanno andando in modo lievemente opposto rispetto a chi pensava di congegnare questa cosa i propugnatori del lockdown e così via sono stati respinti certe mega multinazionali che hanno indirizzato fra cui quella da cui vi sto parlando quindi Facebook stanno iniziando a chiudere forse un ciclo cioè i prezzi di borsa stanno cominciando a crollare di queste enormi corporation high tech sta cambiando l'aria potrebbe essere che noi abbiamo attraversato uno di quei punti di svolta della storia che poi una volta passati risulteranno molto più evidenti nella loro caratteristica di punto di inversione può essere che noi l'abbiamo attraversato e può essere che quest'era dello schifo cioè del dominio di poche persone sulle masse e così via stia cambiando quando ci sono i cambiamenti bisogna sempre stare attenti perché tante volte poi a volte capita che si cambi per il peggio bisogna vigilare ma io credo che ci siano delle opportunità io credo che quando ci sono questi cambiamenti possano essere delle opportunità e le opportunità poi dopo succedono nei modi più strani quindi c'è un cambiamento in atto sono molto onorato di essere parte di questo cambiamento di fare la mia parte al vostro servizio vi ringrazio e vi saluto